Salve, benvenuti a tutti al Cinema Palazzo. Oggi assistiamo nuovamente al pericolo di uno sgombero, per questo per noi è molto importante che la sala Vittorio Rigoni, l'ex Cinema Palazzo, venga attraversato il più possibile in queste giornate, non solo durante le serate, ma durante le giornate stesse. Ripiciamo questa sera, il 18, perché abbiamo deciso di fare un corso professionista di resistenza urbana, di rio-tecnico di resistenza urbana, dei primi elementi su come i cittadini si auto-organizzano per dire no a delle cose che non portano beneficio a nessuno come un caso di lavoro.